Miss Austin, Jane, volete sposarmi? Ora, tuttavia, sono completamente sola. Che felicità. Un uomo come Mr. Darcy può esistere solamente nei romani. Non temere, Fanny, l'uomo giusto arriverà presto. Per te non è mai arrivato. Non potevo sposare un uomo che non amavo. Le lettere private della più grande scrittrice di sempre. Io, Jane Austin, mercoledì alle 20.55.